Ciao, sono Marco Verratti. Questa è la City Guide. Pescara è una città dove sono cresciuto e ci sono tantissime cose da fare. A Pescara c'è una particolarità che puoi sciare e vedere il mare. C'è il lungomare che è molto grande, 7-8 km. C'è la Basilica del Volto Santo dove c'è il vero velo. C'è la Sindone del Volto Santo. Sono pieni di ristoranti dove si mangia del pesce veramente buono. I trabocchi, anche vicino a Pescara, che sono dei ristoranti dove mangi proprio nell'acqua, nelle vecchie trabocchi dove prima si pescava. Il pesce è veramente buonissimo. Poi ci sono gli arrosticini che sono le specialità dell'Abruzzo. Arrivederci a tutti e ci vediamo presto su all.com. Il nostro dialetto che usiamo a Pescara è una delle cose per riconoscere se sei un vero pescario o no. però... ... ... ...